Il compleanno di Charlotte di Cambridge si avvicina. Il 2 maggio la secondogenita di William e Kate compie 5 anni e dalla loro attuale residenza nel castello di Norfolk mamma e papà stanno pensando a come far trascorrere alla loro piccola principessa una giornata speciale. Nonostante le straordinarie circostanze che stiamo vivendo, Kate e William vogliono dare a Charlotte tutto il divertimento possibile, rivelato una fonte di corte alla stampa britannica. Sicuramente non mancherà, oltre alla torta, una videochiamata di gruppo, con gli amici ma anche con il resto della famiglia reale, compresa la regina Elisabetta. Ad animare il compleanno di Charlotte, non c'è dubbio, ci penseranno i fratelli. Il più piccolo, Luis, e il più grande, George, amano colorare e riempire di allegria anche le giornate in isolamento, come dimostrano gli scatti pubblicati sui social. Mamma Kate, poi, è solita realizzare foto particolari ai suoi figli in occasione del compleanno e non c'è dubbio che anche per la sua piccola principessa stupirà i follower con foto speciali.